Musica Non ci abbiamo renato Non ci abbiamo renato ma stiamo a rondere che faccio svegli Mamma mia, è la prima fiera che faccio da youtuber Da youtuber ragazzi, i pass da youtuber Da youtuber, ovviamente no, siamo furaci, noi siamo pochi iscritti Ma io vorrei far vedere la roba che abbiamo dietro Guarda qua, ragazzi siamo pieni di roba Ma addirittura ci stanno i case personalizzati Ci bastano a trovare anche persone importanti Eh, perché cavolo Qui stanno soltanto persone importanti Tu hai detto che hai già montato un pc Quanti ne hai montati? Eh, due, non di più Vabbè hai detto niente, già Di alimentatore monti La domanda importante NANI?! Omae wa mou shindeiru Sto guardando Sto guardando Sarmi Va bene Bonda un alimentatore buono, lo dico io Ecco ci sta insegnando i suoi piedi che la vedete Allora, insegnaci i trucchi per fare i film post Comprate visual Comprate visual Allora, da domani Compreremo visual Non si comprano Regalatevi Dipende Dipende Sì perché Comunque Tu devi sapere Ci sono rivenditori Quelli buoni E quelli meno buoni Esatto Devi pagare quelli più buoni Quindi sono difficili da trovare Quindi attenzione alle bus cinesi Esatto Parola di lato Però non siamo poveri Quindi ce ne dovete venire da fuori Regalateci le bus Ragazzi Allora Dobbiamo aprire Un canale Patreon Esatto Per comprare le bus Giusto Giusto E' degnale E' degnale Io te lo d'accordo con lui Chi è d'accordo? Metallari Vai Metallari Sì Sì E' che l'altro Grazie Mi prendete che lei prima regalare questa tastiera Certo Sì E' che l'altro Degrazi E' che l'altro C'era le domande Per la prima C'era i gioncati Un'opera E' che l'altro Siamo inizia Una scelta La scelta Sì Sì, sì, sì. La scena! La scena! La scena! La scena! La scena! Si gioca! Si è finita! Ora si vince un cappellino! Alla seconda una maglietta... ...a la terza questa! Sei pronti? Non ho saputo! quanti colori può avere lo chartucci G5 RGB? quanti ce ne stanno? no due tre quattro di conseguenza andate a mettere mi piace alle loro faccine facebook e adesso l'ultima domanda si viene a una volta e si risponde l'ultima una più in la vai questa la lancia lontano andate giù agio ho paura del peccato del peccato allora stiamo a girare Romitz sono stanco tanto ma le altre cose abbiamo anche dei piccoli problemi logistici per fare la live perché sta a un portello assurdo se facciamo la live non si sentirebbe niente hanno annunciato un certo Fabi J hanno annunciato un certo Fabi J mi portano di qua io non lo conosco ma chi è Fabi J io non lo conosco quindi scrivete nei commenti chi è Fabi J colpa di Fabi J io non faccio la live guardate un po' ragazzi stiamo scherzati perché l'aveste capito dove passiamo? non lo so ragazzi comunque io le ho ringrazio a tutti questi ragazzi che si attualmente che sono venuti infandati che ci hanno portato da mangiare a bere veduto cioè stiamo a scherzare se ne sono stati infandati per me la mia prima fiera ce ne saranno altre e si certo ce ne saranno altre sicuramente va bene ci vediamo più tardi che è meglio allora faccio vedere in che modo si fa la differenziata questo è il cartone ma dentro c'è anche plastica e quant'altro prima ci hanno chiesto di evacuare con un'allarma e pompa perché abbiamo anche le bombe qui a Robix in cui ci sono state che i giorni al mondo la frequenza è una la frequenza in cui questa mi è rimasta impressa al punto in cui un'anno c'è della strada al 60 chi ha reso disponibile questo ovvero ASK Store e Sharfung sopratutto voglio ringraziare Luca di Sharfung vi domerete qua un applauso per Luca di Sharfung In conseguenza andate a mettere mi piace E adesso l'ultima domanda Si viene una alla volta e si risponde Appena tornato, sto abbastanza distrutto Non ho un filo di voce Non ho niente, sto stanchissimo Ma voglio ringraziare veramente tutti quanti Perché sono una giornata pazzesca Tra l'altro sono tornato adesso da Roma Se mi vedono fare il vlog e gli sembra strano Faccio così perché sembra il colo Sono una giornata faticosissima, è stata bellissima Voglio ringraziare tutti i ragazzi che sono passati Sono stati fantastici, mi avete regalato delle RAM Le RAM di DR3 che sono buone Sono stati fantastici veramente È stata un'esperienza molto bella Che non avevo ancora fatto Questa è la prima fiera che faccio Stavo contento che anche molti sono rimasti contenti Ho cercato di fare una parola con tutti Perché comunque c'è l'avvenire, la foto A me piace più quando si parla Quando creiamo dibattito e queste cose È stata una bella fiera Io spero che sia piaciuto anche a voi Spero che il video vi sia piaciuto Non so com'è venuto perché Molte clip non le ho manco registrate io Perché so io che faccio cose Spero che vi sia piaciuto Niente raga Grazie mille a tutti perché Questa giornata è stata così È soltanto grazie a voi E niente Ci vediamo al prossimo video Grazie mille a tutti Grazie mille a tutti Grazie mille a tutti Grazie mille a tutti